Il tema della povertà è divenuto negli ultimi anni un tema centrale. Se io leggo alcuni scritti non di tanto tempo fa c'era la sensazione che quella che veniva chiamata la povertà materiale fosse ormai diventata o in via di diventare un problema marginale e quelle che erano prese in considerazione erano le cosiddette povertà post materiali. Mentre invece abbiamo avuto un impressionante ritorno della povertà nella sua forma più violenta, tradizionale, ha avuto ragione Marco Revelli quando ha intitolato un suo libro Poveri Noi. Ora questa campagna non è una delle tante campagne, è quella che riflette il dato più drammatico che caratterizza la nostra società che la può assolutamente dissolvere, che sta facendo venir meno alla coesione sociale, che sta mettendo in discussione i rapporti tra i ceti, usiamo anche un'espressione oggi desueta, tra le classi, che impedisce l'integrazione, che vede il ritorno della terribile concorrenza tra poveri. Io so che nelle mense, per esempio quella della Carita, i frequentatori abituali vedono con sospetto il fatto che compaiano nuove figure sociali, e cioè i ceti impoveriti, che sono costretti a ricorrere a tutto questo. Così come Gino Strada ci racconta che gli ambulatori che ha aperto in Italia, che dovevano servire ai migranti, che hanno meno strumenti culturali, soprattutto difficoltà di accedere alle istituzioni pubbliche, oggi sono frequentati dagli italiani che non possono pagare il ticket. Dunque la povertà incide sulla vita, incide sui diritti fondamentali, ed è vero, come ci ricorda sempre Don Ciotti, che oggi legalità significa legalità costituzionale. All'interno della legalità costituzionale, la povertà non ha posto, è una violazione della legalità, perché è una violazione in primo luogo della dignità delle persone, dell'eguaglianza di ciascuno nei confronti dell'altro, del rispetto reciproco, e del fatto che noi ormai abbiamo fatto diventare unica legge naturale quella del mercato, dalla quale il riconoscimento di qualsiasi altro diritto dipende, capovolgendo totalmente quella che è la logica costituzionale. Perché scrivere dei diritti, affermare alcuni principi, non vuol dire affermare sulla carta o in astratto qualche cosa. Significa in primo luogo stabilire qual è il criterio di ripartizione delle risorse in relazione alle persone. Se io riconosco come diritto fondamentale quello alla salute, se io riconosco che tutti hanno diritto di accedere all'istruzione attraverso le scuole di ogni organo e grado che lo Stato deve istituire, e così continuando, se noi vediamo e rilanciamo l'articolo 1 della Costituzione, facendo riferimento al lavoro come fondamento, della Repubblica Democratica, ecco che ci sono delle indicazioni che sono tutt'altro che astratte. Sono delle linee che ci dicono come si ripartiscono le risorse. Noi lo vediamo, io faccio dei riferimenti alla realtà di ogni giorno, io ripeto sempre che l'ostilità all'acquisto degli F-35 non è una retorica antimilitarista, figlia di vecchia cultura, come qualcuno con improntitudine ha voluto dire. È semplicemente un impiego che è contrastante con i criteri di ripartizione delle risorse che la Costituzione indica e per i quali dà una gerarchia. Soltanto quando sono stati soddisfatti quei bisogni fondamentali delle persone si può pensare ad altro. Questo è un punto essenziale. È un punto essenziale perché altrimenti noi stiamo vedendo la crescita dei poveri come la manifestazione più violenta della diseguaglianza. Stiamo vedendo la crescita dei poveri come la fine della cittadinanza uguale. Perché che cosa vuol dire la povertà? Vuol dire che io, se non ho un set, un insieme, un complesso, un patrimonio di diritti pienamente riconosciuto, non sulla carta, ma nella possibilità di attuazione, io perdo un pezzo di cittadinanza. Perché se io avrò tanta salute, quanta ne posso comprare sul mercato? Siamo tornati a quella che nell'Ottocento si chiamava la cittadinanza censitaria. Cioè io ero cittadino, nel senso che potevo votare solo se avevo un certo reddito minimo. pensate che quando si vota la prima volta nel 1861 votano solo i maschi abbienti, affabetizzati e che hanno un certo reddito. Le donne non votano, vota l'1,6% della popolazione. Noi abbiamo in questo momento uno scarto spaventoso, la crescita della povertà e l'aumento dei privilegi, la crescita della povertà e la riduzione dei diritti. Questo è il dramma che stiamo vivendo che cambia la radice stessa del sistema democratico. Tutto questo mette in discussione la democrazia. Una democrazia senza diritti diventa una democrazia senza popolo, perché al suo interno non tutti hanno voce come dovrebbero. Abbiamo detto tante volte che il processo democratico non è più soltanto quello di una procedura. Un certo giorno si va a votare, c'è una pluralità di partiti. Sono le precondizioni che fanno vera la democrazia, e cioè l'istruzione, la possibilità di accesso all'informazione, il lavoro, la salute. Se non c'è questo non c'è il processo democratico. Ecco, io credo che al centro delle iniziative da oggi in poi ci deve essere questa consapevolezza, che è nuova in parte perché sta riscoprendo la Costituzione in una valenza che anche i difensori accaniti della Costituzione, tra i quali io mi iscrivo, fino a un certo punto non avevano colto tutte le potenzialità. Non si può rimanere solo sulla difensiva. Stiamo rileggendo la Costituzione e mettendo l'affondamento di un'agenda politica che sia finalmente l'agenda politica costituzionale. E all'interno dell'agenda politica costituzionale deve stare al primo posto il diritto all'esistenza. Io lo chiamo così. Il diritto all'esistenza è messo in discussione o negato da tutto ciò che mi viene negato in quanto persona. Ecco, la campagna sacrosanta che usa la parola miseria perché è questo, che è miseria materiale ma è poi la miseria morale di chi non capisce tutto questo. Questo è oggi uno dei grandi, anzi forse il più grande tema politico.